900.000 km attraverso 215 paesi. È questa l'impresa straordinaria di una coppia di coniugi tedeschi, gli Holtorf, che a bordo della loro Mercedes classe G, soprannominata affettuosamente 8, hanno fatto il giro del mondo in 26 anni, attraversando deserti e ghiacciai, viaggiando su qualsiasi tipo di terreno e con qualunque pendenza, proprio grazie a questa fuoristrada decisamente fuori dal comune, celebrata al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino e poi in altre città europee. Proprio in occasione dei 35 anni del fuoristrada della Stella, l'ospite d'onore non poteva che essere la mitica 300 GD, protagonista di un'avventura senza precedenti, che le ha fatto conquistare un posto d'onore nel Guinness dei Primati. Il fortunato e avventuroso proprietario ha iniziato la sua avventura ricordando che Mercedes aveva promesso, dove c'è una classe G c'è una strada. Ebbene, la promessa è stata mantenuta, studiando un percorso che le permettesse di compiere il giro del mondo. Sono stati necessari un po' più degli 80 giorni scritti da Giulio Verne. Grazie a tutti. Grazie a tutti.